L'obiettivo era riprendere fondamentalmente il punto perso il Lecce, l'abbiamo ripreso con gli interessi perché sono arrivati tre contro i campioni d'Italia. Ti chiedo anche alla luce di come avevi preparato la gara quale è stata la qualità maggiore che la squadra ha messo in campo oggi che poi ci ha portato a vincere questa importante partita? L'intensità e la qualità soprattutto del primo tempo. Io credo abbiamo fatto un primo tempo molto molto importante da un punto di vista tattico, di aggressività, di tempi di uscita, di sviluppo di gioco e nel secondo tempo invece avevamo speso tanto ma siamo stati ugualmente abili a mantenerci sempre compatti tra i reparti senza rinunciare mai ad attaccare il retropassaggio quindi salire col baricentro della squadra. Oggi mi è piaciuta la lettura della partita per tutti i 94 minuti, 95 quelli che sono perché non abbiamo concesso occasioni di disattenzione che siano stati sui calci piazzati oppure magari non riconoscendo una zona di pericolo nel quale era opportuno fare scelte diverse. Oggi questo i ragazzi l'hanno fatto, mi è piaciuto soprattutto lo spirito con cui hanno giocato e che hanno messo in campo. Era la risposta che volevamo darci perché peraltro in 13 partite credo che forse da questo punto di vista siamo mancati in una pur non avendo concesso chissà che coda ma oggi è stata una parita di assoluta qualità da questo punto di vista e nettamente superiore alla scorsa. Io mister vado un attimo su alcuni singoli perché hai fatto qualche cambiamento. Lo so però bisogna anche parlare di loro perché poi si sottolinea anche la prova che fanno. In particolar modo io volevo concentrarmi su Grassi che tornava da un diverso tempo in cui non si era visto e aveva questo problema la pubalgia e Fazzini che ha fatto un primo tempo davvero importante. Ti chiedo, al netto che ne vuoi parlare il giusto però come hai visto questi due ragazzi perché come si diceva ieri c'era sempre bisogno di tutti e hanno dimostrato di poter dare la mano che volevi. Intanto la coerenza con cui si è risposto. Se io dico che abbiamo bisogno di tutti e poi voi vedete due novità in campo vuol dire che non dico una cosa in cui non credo. Due Fazzini come vi ho sempre detto secondo me diventerà un giocatore molto molto importante se tiene questa mentalità. Il primo tempo suo è stato di assoluta qualità e intensità. Voglio due tempi così da lui. Lo accetto perché è un giovane e quindi so che bisogna avere i tempi di miglioramento. Prima subentrava spesso, quasi sempre subentrato, ha giocato titolare solo contro il Milan quindi già gli si era data un'occasione importante contro una squadra importante. Secondo me aveva fatto bene pur non giocando magari in un ruolo non propriamente suo anche se in futuro lui ha queste caratteristiche. Oggi invece credo che abbia determinato, abbia dimostrato che nonostante la sua giovanità sa determinare. Stiamo parlando di un giocatore che ha riprospettive elevatissime che però ha bisogno ancora di completare la maturazione e di allenarsi come sta facendo. Grazzi non è un giocatore che scopro io, voi lo conoscete molto meglio di me. È sicuramente un giocatore che si è messo nella condizione di sviluppare le sue caratteristiche che sono anche quelle di alzare l'impressione play to play a tempi di gioco. Purtroppo noi abbiamo avuto lui assente per lungo tempo anche se poi chi l'ha sostituito ha cercato di fare del suo meglio. Buonasera mister, l'allenatore del Napoli ha parlato della voglia di vincere delle squadre e del fatto che nel Napoli nel primo tempo questa sia un po' mancata. Ecco, le chiedo quanto ha contato per l'Empoli la voglia di vincere e quanto hanno contato le motivazioni? Io credo che oggi noi abbiamo dimostrato a noi stessi soprattutto la voglia di competere e che abbiamo quel tipo di intensità per giocare un certo tipo di calcio. A me piace un calcio aggressivo. Questo non vuol dire che debba essere costantemente nella metà campo avversaria perché anche se alzavamo sugli appoggi i giocatori sulla costruzione del portiere del Napoli, lo abbiamo fatto secondo me anche discretamente bene, è impensabile che una squadra possa gestire 95 minuti nella metà campo avversaria soprattutto se si incontrano i campioni d'Italia, quindi con la loro qualità. Però la capacità di attaccare sempre il retropassaggio salendo con le linee ha permesso alla squadra di rimanere costantemente compatta, ha permesso alla squadra di dimostrare anche un coraggio nell'uscita a pressione. I braccetti spesso volentieri uscivano anche oltre i centrocampisti a prendere le mezze ali o le punte di turno e quindi io credo in questo tipo di gioco perché credo che questo alla fine poi di anche coraggio all'interpretazione al singolo giocatore ma all'interpretazione della squadra. Alle volte ti riesce per la verità, noi ho riuscito già diverse volte, ma alle volte non hai sempre questo tipo di intensità. Ecco la risposta che ci siamo dati è che noi non ne possiamo fare a meno perché se no diventa tutto molto più difficile. E se ben pensate, nelle ultime sei partite noi abbiamo incontrato Napoli, Torino, Milan, Inter, Bologna, Lecce e Cagliari, smettiamoci quindi sette. Probabilmente si pensava che si potesse fare dei punti contro dirette concorrenti, in realtà abbiamo fatto poi punti, tre punti addirittura contro il Torino e tre contro il Napoli. Quindi è un campionato dove non si può più fare come si diceva una volta, no? Ah, lì diventa la mia partita, qua non la devo sbagliare. È la mentalità che ormai dimostra che tu devi cercare di fare punti contro chiunque perché non sai con chi li potrai fare. Quindi devi avere questo spirito, se no diventa tutto molto più difficile. Buonasera mister. A lei. Una domanda, solo una domanda. Come sta Ceri? Non lo so, non l'ho ancora visto, ma ovviamente se è uscito dal campo credo che non sia... Non ci sa niente. No, beh, non abbiamo la possibilità di avere uno studio mobile, quindi aspetteremo domani e vedremo. Vediamo. Comunque, sono contento per lui perché sarebbe stato già il secondo consecutivo e se lo meritava. Grazie a voi. ha detto che le partite non si vincono più negli scontri diretti, cioè i campionati, le salvezze, ok. Però chiaramente Bergamo e poi la partita con il Frosinone che sarà qui al Castellani, il Frosinone significa in caso di vittoria togliere anche punti a una diretta avversaria. Certo, no, no, ma infatti stavo dicendo che io stavo facendo una considerazione generale riguardo al fatto che è impossibile pensare perché se tutti facessero questo discorso allora tutti gli scontri diretti come amate definirli voi, che poi in realtà ogni partita è uno scontro diretto, ma tutti gli scontri diretti allora se tutti facessero questo ragionamento qualcuno i punti non li deve prendere per forza, quindi deve avere la capacità di andarle a prendere in altre situazioni. Ovviamente l'importanza di una diretta concorrente e quindi vincere contro una diretta concorrente che come te lotta per quell'obiettivo, la vera importanza è il fatto che non mandi avanti loro, però questo non è sempre possibile farlo, no? E quindi tu devi cercare di recuperare quando laddove non ci riesci in altri contesti. Frosinone è tra due, a me interessa esclusivamente la partita prossima che a Bergamo contro una squadra che da un punto di vista dell'intensità ci metterà a dura prova, ma noi abbiamo bisogno di prove dure per migliorare, se no sembrerebbe tutto troppo facile. Invece io credo che l'Empoli stia dimostrando a se stessa che crede in quello che sta facendo e storicamente sarebbe forse una conquista anche personalmente assolutamente incredibile. Mister, buonasera. Lei prima ha toccato un argomento della costanza in un campionato dove probabilmente in questa parte finale saltano un po' gli schemi, perché come ha detto lei, l'Empoli ha fatto punti probabilmente in quelle che sulla carta potevano essere, sulla carta ripeto, partite più difficili rispetto agli sconti diretti. Mi piace analizzare sempre attraverso i numeri, i numeri dicono che fondamentalmente l'Empoli è costante, perché ha vinto questa partita segnando nello stesso minuto e con lo stesso giocatore tra l'altro con cui aveva segnato comunque a Lecce, quarto minuto. E poi l'altra cosa che mi viene da pensare legata ai numeri è l'emotività che c'è sempre intorno al calcio, perché siamo uomini alla fine ai calciatori. E quindi le dico, questa vittoria contro il Napoli è forse figlia della giusta reazione dopo la sconfitta, non semplice da metabolizzare di una settimana fa, della costanza, degli allenamenti anche? La considerazione potrebbe avere una valenza e un peso. Se non fosse che dal primo giorno con i ragazzi ho cercato già di in qualche modo prepararli a questo, perché pensate bene una squadra che per 20 partite magari fa 0,65 punti a partita, improvvisamente in meno di 20 partite, quindi in 18 partite non può più sbagliare, perché per salvarti devi raddoppiare quei punti lì. E quindi diventa un po' poco credibile, perché come fa una squadra che per più di metà campionato non riesce magari a esprimersi, improvvisamente cambiare drasticamente. Noi non abbiamo cambiato, abbiamo cambiato il modo di stare in campo, abbiamo cambiato le richieste, abbiamo messo le nostre idee, ma il lavoro che stanno facendo i ragazzi soprattutto riguardo al fatto che non perdono un giorno di allenamento, ma con quell'intensità che poi tu dovrai mettere in partita. E non è facile, non è assolutamente facile, perché se io vi dico che in tre mesi e mezzo il ritmo di vita che stiamo facendo, che sto facendo personalmente, non è paragonabile ad un anno. Tu devi mettere tutto l'impegno possibile, non hai mai scarico, sei nella condizione di trasferire idee, di non sbagliare più partite possibili e quindi questo non accade. E quando accade devi avere la capacità di fregartene. Oggi noi non abbiamo giocato per vincere la partita, non è che si è detto che non avevamo più voglia di vincere. In realtà noi abbiamo giocato per dimostrare che noi le prestazioni ne sappiamo fare, perché l'abbiamo sempre fatta, ad eccezione dell'attenzione dimostrata nella partita scorsa per quanto riguardano alcune situazioni, calci piazzati, oppure il fatto che non abbiamo riconosciuto una zona di pericolo all'89esimo minuto. Questo sì che fa girare le scatole, come se deve far girare le scatole? Anzi tu devi stare due giorni, devi andare in down perché devi sentire quel peso lì, perché non è una sconfitta per meriti altrui, è una tua mancanza. Oggi io credo che i ragazzi si siano dimostrati questo, perché nella lettura della partita, nelle singole situazioni, sono stati davvero molto molto concentrati, pratici quando dovevano essere, ma non hanno mai rinunciato a dimostrare che sanno anche giocare. In riferimento mister, la libero subito, proprio a questa affermazione, possiamo dire che oltre al campo c'è stata una grande attenzione nella preparazione della partita, cioè l'atteggiamento che la squadra ha avuto è perché avete lavorato molto su questo durante la settimana. No, 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 noi lavoriamo sempre così. Il problema è che negli allenamenti tu non hai il coinvolgimento emotivo che hai in partita, io quello non riesco a riprodurlo, allora devi inventarti delle situazioni di gioco, devi rompere le scatole, magari non fischi due falli clamorosi a un giocatore così almeno si arrabbia. Cerchi di inventarti delle cose perché il coinvolgimento emotivo non può essere uguale. Io non posso lamentarmi di come si allenano i ragazzi, il problema è che ormai non basta più allenarsi, bisogna avere la capacità di lettura e la capacità di lettura richiede molto allenamento, molti sforzi e una concentrazione incredibile. Adesso è giusto staccare, perché è giusto recuperare e preparare la prossima, ma già dal primo giorno come sempre facciamo.